Parliamo delle novità della SOOP opera La Promessa, che vediamo su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Sembra che ci aspettino delle puntate piene di colpi di scena. E poi Cruz inizia a pensare che Delamata sia coinvolto in tutto questo. Questo lo fa impazzire ancora di più. Immagina la tensione, il sospetto, la rabbia che monta dentro di lui. Queste scoperte lo portano a un punto di rottura e, in un momento di rabbia intensa, fa qualcosa di drammatico. Prova addirittura a strangolare la Baronessa. È un momento di tensione altissima, tutti gli spettatori col fiato sospeso. Che cosa sta succedendo? Cosa farà Cruz? Ma per fortuna, proprio quando la situazione sembra sfuggire di mano, arriva Alonso e interviene salvando la Baronessa. Questo intervento di Alonso cambia tutto. Si sente l'adrenalina, la paura, il sollievo. E ci si chiede, cosa succederà ora a Cruz? E a Elisa? E Lorenzo e Delamata? Che ruolo avranno nelle prossime puntate? Sono proprio curioso di vedere cosa succederà nelle prossime puntate. Con tutte queste trame svolte, ogni episodio è pieno di sorprese. Ci saranno confronti, rivelazioni, forse anche più segreti che verranno a galla. E come reagiranno gli altri personaggi a questi eventi? Cosa succederà a Cruz dopo questo suo gesto così estremo? Queste sono solo alcune delle domande che ci frullano in testa. È chiaro che le prossime puntate saranno piene di azione, di emozioni e di colpi di scena. Non vedo l'ora di scoprire come si svilupperà la storia, come reagiranno i personaggi a tutto ciò che sta succedendo. Sono sicuro che ci saranno tanti momenti che ci lasceranno a bocca aperta. E tu, cosa ne pensi? Cosa credi che succederà nelle prossime puntate? Anche tu sei impaziente di scoprirlo? Nelle prossime puntate della nostra amata serie ci aspettano dei momenti davvero emozionanti e pieni di tensione. Soprattutto riguardo ai piani di Cruz per Elisa. Per chi segue la serie da tempo, non è un segreto che Cruz veda Elisa come una minaccia. Soprattutto ora che quest'ultima, ex amante del barone e terza erede designata da Juan, sta dimostrando una forza e una determinazione sorprendenti. Cruz, la cui astuzia e volontà di mantenere il controllo sulla situazione sono ben note, ha ideato un piano pericoloso per eliminare Elisa dalla competizione. Questo piano si basa sull'uso di un tè avvelenato, un metodo subdolo e silenzioso che riflette la natura manipolativa di Cruz. Tuttavia, Elisa, sempre più attenta e sospettosa, riesce ad evitare questo tentativo di avvelenamento. La sua capacità di sfuggire al pericolo non fa che aumentare la tensione tra lei e Cruz, rendendo la loro rivalità ancora più accesa. La situazione si complica ulteriormente quando Cruz scopre Elisa in compagnia di Lorenzo. Questa scoperta agisce come una scintilla che alimenta ulteriormente la rabbia e la gelosia di Cruz. Vedere Elisa e Lorenzo insieme è come un coltello che si gira nella ferita per Cruz, che vede in questo incontro non solo una minaccia al suo piano, ma anche un attacco personale al suo rapporto con Lorenzo. Questo intreccio di sentimenti e piani segreti crea un'atmosfera di suspense e incertezza. Gli spettatori si ritrovano a chiedersi cosa succederà dopo. Come reagirà Cruz a questa scoperta? Riuscirà Elisa a mantenere il suo vantaggio e a proteggersi dai piani di Cruz? E Lorenzo come si posizionerà in questo complicato gioco di alleanze e rivalità? La serie C tiene incollati allo schermo, ansiosi di scoprire come si evolveranno queste dinamiche. Ogni episodio si rivela più intrigante del precedente, con nuovi sviluppi e colpi di scena che tengono alta la tensione. Le personalità dei personaggi diventano sempre più complesse e le loro interazioni si intrecciano in una trama avvincente che promette sorprese e momenti indimenticabili. In un imminente episodio della serie che ha catturato l'attenzione del pubblico, assistiamo a un nuovo e drammatico tentativo di Cruz di eliminare Elisa. La scena si svolge in un ambiente teso, pieno di suspense. Cruz, con un piano ben orchestrato, tenta nuovamente di avvelenare Elisa usando del tè. Questo metodo, già sperimentato in precedenza senza successo, dimostra la determinazione di Cruz nel perseguire il suo obiettivo oscuro. Nonostante la pianificazione accurata e l'astuzia di Cruz, il suo piano fallisce ancora una volta. La narrazione ci porta in un vortice di tensione crescente, poiché si avvicina il momento in cui il destino di Elisa sembra essere segnato. Tuttavia, in un colpo di scena che tiene gli spettatori con il fiato sospeso, Elisa sfugge ancora una volta al pericolo. La tensione raggiunge il culmine in una scena carica di emozioni forti. In un momento cruciale e pieno di suspense, Alonso trova Cruz mentre sta per strangolare Elisa. La scena è descritta con vividi dettagli, lasciando lo spettatore sulla soglia di un'emozione travolgente. Alonso, con un tempismo perfetto e un coraggio eroico, riesce a intervenire giusto in tempo per salvare Elisa da un destino tragico. Questo salvataggio tempestivo non solo salva la vita di Elisa, ma rivela anche la vera natura pericolosa e instabile di Cruz. Dopo questo episodio, Alonso, il marito di Cruz, inizia a interrogarsi sulla salute mentale di sua moglie. Le sue azioni, prima viste come stranezze o comportamenti fuori norma, ora assumono una luce sinistra. Alonso si ritrova in uno stato di profonda riflessione e dubbio. La sua fiducia nella moglie viene scossa fino alle fondamenta, mentre si trova a fronteggiare la realtà di una situazione familiare, che si sta deteriorando rapidamente. Questo episodio segna un punto di svolta nella trama, creando nuove dinamiche tra i personaggi e promettendo ulteriori sviluppi intriganti. Gli spettatori rimangono incollati allo schermo, ansiosi di scoprire come si evolverà la storia e quali saranno le ripercussioni di questi eventi sconvolgenti sui personaggi e sulle loro relazioni. Entriamo nel mondo affascinante della nostra serie TV preferita, dove c'è una domanda che tutti i fan si fanno. Chi è veramente Elisa? Questo personaggio, così misterioso e interessante, ha fatto scatenare un sacco di teorie e idee tra chi segue la serie. Ogni volta che appare, ci lascia con più domande che risposte. E se ti dicessi che Elisa potrebbe essere molto più di quello che sembra, che ci sono segreti nascosti dietro il suo sguardo misterioso? Immagina se Elisa, quel personaggio che abbiamo sempre visto come isolato e distante dagli altri, avesse in realtà dei legami segreti con alcuni dei personaggi principali della serie. Sì, proprio così. Non sarebbe qualcosa di incredibilmente sorprendente e rivoluzionario per la trama? Questi legami nascosti potrebbero effettivamente essere la chiave per sbloccare e comprendere molte dinamiche e segreti della storia, svelando aspetti che finora ci erano completamente ignoti. Adesso prendiamo per esempio una possibilità che potrebbe davvero capovolgere ogni nostra precedente comprensione della serie. Pensa se Elisa fosse in realtà la madre di Curro e Hana. Questo dettaglio, se venisse alla luce, cambierebbe completamente il modo in cui vediamo le loro storie, non trovi? Finora abbiamo sempre considerato Curro e Hana come due personaggi indipendenti, con le loro storie e sfide personali. Ma se Elisa fosse la loro madre, all'improvviso tutti i loro conflitti, le loro scelte e i loro percorsi acquisirebbero un nuovo profondo significato. Immagina le implicazioni di una rivelazione del genere. Tutte le interazioni tra Elisa, Curro e Hana che abbiamo visto fino ad ora dovrebbero essere riviste sotto una nuova luce. Ogni dialogo, ogni sguardo, ogni decisione presa potrebbe nascondere un significato più profondo legato a questo legame familiare segreto. E non solo, questo potrebbe anche influenzare le relazioni di Elisa con Glee altri personaggi della serie. Forse alcuni di loro sapevano già del legame tra Elisa e i suoi presunti figli, mantenendo il segreto per ragioni che ci sono ancora oscure. Pensaci, potrebbero esserci stati indizi disseminati lungo tutta la serie, piccoli dettagli che avevamo trascurato o interpretato in modo errato. Questa nuova prospettiva potrebbe spiegare alcuni comportamenti di Elisa che prima C.I. sembravano inspiegabili o fuori luogo. E che dire delle reazioni di Curro e Hana a certe situazioni? Forse il loro comportamento era influenzato da questo segreto, da una verità che solo loro conoscevano. In definitiva, una rivelazione del genere potrebbe non solo cambiare tutto quello che pensavamo di sapere sulla serie, ma anche arricchirla di nuove sfumature emotive e narrative, rendendo la storia ancora più avvincente e complessa. Sarebbe un colpo di scena che avrebbe l'effetto di un terremoto sulla trama e sui personaggi, modificando in modo radicale le nostre percezioni e aspettative. E poi c'è una teoria che sta prendendo piede tra noi fan, che Elisa sia in realtà Dolores, la madre di Curro e Hana, e che Alonso sia il padre. Questa teoria aggiungerebbe un sacco di profondità e complessità al personaggio di Elisa e spiegherebbe tante cose. Immagina le implicazioni di questa rivelazione. Le dinamiche tra i personaggi, le loro storie, tutto potrebbe cambiare. Ma cosa ne pensi tu? Sei d'accordo con questa teoria? O hai le tue idee su chi sia Elisa? Forse pensi che sia qualcun altro? O che abbia un ruolo diverso nella storia? Scrivi nei commenti sotto al video cosa pensi tu di Elisa? Chi credi che sia? Quali sono le tue teorie? Siamo super curiosi di sapere cosa pensi. La tua opinione è importante per noi. E chi lo sa? Magari hai colto qualche dettaglio che a noi è sfuggito. Condividi le tue idee, le tue ipotesi, i tuoi pensieri. Non vediamo l'ora di leggere i tuoi commenti e di scoprire cosa pensano anche gli altri fan. Una delle teorie più affascinanti che circolano è che Elisa potrebbe essere in realtà imparentata con uno dei personaggi principali. Immaginate solo le implicazioni di una rivelazione del genere. Potrebbe stravolgere le dinamiche già complesse tra i personaggi e portare a nuovi e inaspettati sviluppi nella trama. Forse c'è una ragione nascosta dietro ogni sua mossa. Un segreto che aspetta solo di essere svelato. E poi c'è l'ipotesi ancora più sorprendente. E se Elisa e Dolores fossero in realtà la stessa persona? Questa possibilità aprirebbe scenari davvero inimmaginabili. Potrebbe significare che tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora è parte di un inganno magistralmente architettato. Una doppia vita che sfida ogni nostra aspettativa. Le implicazioni di una rivelazione del genere sarebbero enormi. Non solo per Elisa e Dolores ma per tutti i personaggi che le sono intorno. Ora, voglio sapere cosa ne pensate voi. Avete notato degli indizi che potrebbero supportare queste teorie? O forse avete delle teorie tutte vostre su chi sia realmente Elisa? Scrivete nei commenti sotto al video le vostre opinioni e ipotesi. Siete convinti che ci sia un legame di parentela tra Elisa e qualche altro personaggio? O credete che la storia di Elisa e Dolores sia molto più complicata di quanto appare? Non vedo l'ora di leggere le vostre idee e di discuterle insieme. Questi misteri rendono la serie ancora più avvincente. E ogni vostra teoria potrebbe essere il pezzo mancante che risolve il puzzle. Non vedo l'ora di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di La Promessa su Canale 5. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni della promessa. Grazie a tutti.